Si riparte da capo. Il progetto per costruire un coinceneritore incontrato a Sant'Anna a Partinico subisce una battuta d'arresto. Ieri si è svolta la prima conferenza di servizi, ovvero l'ITER, per avere tutti i pareri degli enti competenti e decidere se può essere autorizzato oppure no. È emerso che il tipo di autorizzazione richiesta è un altro, cioè non è sufficiente una procedura semplificata, ma serve la cosiddetta autorizzazione unica e quindi servono integrazioni e una nuova consultazione pubblica. Dunque si torna alla casella di partenza. Nel corso della riunione è intervenuto anche l'architetto Tola dell'SRR, cioè la società di comuni che si occupa di pianificare il servizio dei rifiuti. Tola ha spiegato che l'impianto non fa parte della programmazione dell'SRR, dunque non rientra nella progettualità dei comuni. Come previsto, il privato ha risposto che l'impianto tratterà rifiuti speciali, dunque sulla carta non risolverà alcun problema legato alla gestione dei rifiuti o allo smaltimento. Ieri presente anche Gerardo Lafranca, rappresentante del Comune di Partenico, settore e pianificazione e sviluppo del territorio, è commissione straordinaria. Il funzionario ha chiarito tutta la contrarietà dell'ente, esprimendo parere negativo. Il referente della Regione ha preso atto della contrarietà, ma ha spiegato che per quanto riguarda una parte delle contestazioni, il Comune di Partenico avrebbe dovuto dissentire prima nella pertinente fase di verifica documentale, ma in tale fase il Comune nulla ha avuto da escepire una volta ricevuta la documentazione nel febbraio del 2021. Inoltre il Comune di Partenico non è intervenuto nel procedimento, nella fase di richiesta integrazione. Insomma, il Comune avrebbe potuto dire la sua nella precedente fase e adesso alcune contestazioni sono in ritardo. Ieri per gli ambientalisti era presente Daniel Cascio per l'Associazione Rifiuti Zero Sicilia, in qualità di semplice uditore. Nessuna traccia di altri che si sbattono il petto. Adesso l'iter riparte. Nella nuova procedura sarà coinvolto anche il Consorzio di Bonifica Palermo 2 e questa volta si procederà per valutare non la procedura abilitativa semplificata, ma l'autorizzazione unica. Bisognerà quindi integrare sia l'istanza, sia la documentazione apperente al procedimento e bisognerà attuare un'ulteriore fase di consultazione pubblica.